Borgo Futuro fa schifo, ha scritto un tipo. Da quando ho iniziato a parlare di Borgo Futuro sui vari social ho ricevuto molti messaggi. La stragrande maggioranza è positiva, però ci sono anche alcuni commenti critici. Ne ho scelti 5 interessanti e curiosi e rispondo attraverso questo video. Il primo, tra le altre cose, dice I piccoli paesi vanno conservati come sono, altrimenti si perde la storia e la memoria dai luoghi. Cosa rispondere? A parte che nessuno vuole distruggere alcunché per sostituirlo magari con condominio o assurdità del genere, leggendo il tuo messaggio non posso fare a meno di immaginarti come il classico turista giornaliero che arriva dalla città. Gironzoli tra le viuzze deserte di un piccolo borgo, assapori la pace e la tranquillità, vedi antichi muri in pietra e magari qualche iniziativa turistica e poi te ne vai. Vorresti che tutto questo venisse mantenuto così com'è, proprio per dare la possibilità a chi, come te, decide di svagarsi trascorrendo qualche ora tra questi luoghi. Ecco, hai la classica visione del turista, ma non immagini minimamente cosa significhi vivere in quel posto. Magari nemmeno ti rendi conto che è quasi interamente disabitato. Non immagini cosa significa vivere senza tutte quelle cose che tu, da cittadino, dai per scontate. E mi riferisco anche a cose molto importanti, come ad esempio tutto quello che riguarda la salute, la possibilità di fare la spesa sotto casa, la facilità di muoversi e tutto il resto. Poi dai anche per scontato che gli abitanti, ipotizzando che ce ne siano ancora, vivano felici in case con muri in pietra, magari umide come capita spesso, magari fuliginose a causa del riscaldamento a legna, magari senza alcun comfort simili a quelli che tu dai per scontati a casa tua. Per capire cosa significhi realmente avviare iniziative per contrastare lo spopolamento e far rivivere veramente tanti piccoli paesi, bisogna avere una mentalità completamente diversa dalla tua. Altrimenti non parliamo di far rivivere zone che si spopolano, ma di creare giocattoli per turisti. Passiamo al secondo messaggio che dice Parli male degli altri per vendere il tuo prodotto. Non parlo male degli altri, descrivo quello che ho visto nel corso degli anni, quello che vedo tutt'oggi e quello che mi raccontano le persone che mi contattano. Ho iniziato a studiare la situazione dei piccoli paesi molto tempo fa. Volevo capire quali potessero essere le soluzioni reali per contrastare il problema dello spopolamento. Ho provato a vivere in luoghi isolati, in piccoli paesi, in ecovillaggi e nessuno ho trovato situazioni adatte per risolvere i problemi delle zone interne e nessuno ho trovato soluzioni alle necessità odierne delle persone. Per questo ho deciso di partecipare al progetto Borgo Futuro. Ho analizzato e descritto la realtà senza ipocrisie e romanticismi e oggi parlo del progetto Borgo Futuro, che non è un mio prodotto, bensì l'unico modello realmente efficace per affrontare i problemi delle aree interne. Il terzo messaggio è curioso ed essenzialmente dice Tu dovresti vivere in città, non sei il tipo adatto a vivere in un antico borgo. Qui posso rispondere solo in un modo. Mi sembra di capire che fai parte della categoria di persone che vorrebbero fermare il tempo, anzi riportarlo indietro, al medioevo o anche prima. Probabilmente hai una certa età e hai vissuto in un piccolo comune. Quindi tendi ad idealizzare i tuoi ricordi di gioventù guardando gli aspetti positivi della tua gioventù piuttosto che analizzare in modo oggettivo il tipo di vita che si faceva in quel posto. Vita che oggi non farebbe più nessuno o al massimo pochi fanatici di qualche tendenza passatista. Per questo spiego sempre che la rinascita di un borgo deve necessariamente partire da una serie a progettazione e dalla creazione di tutti i servizi necessari ad uno stile di vita odierno e futuro. La maggior parte delle persone può decidere di lasciare un grosso centro abitato e trasferirsi in un piccolo borgo solo se è sicura di trovare tutto quello che gli serve per abitare in modo confortevole, disporre di tutti i servizi e trovare anche opportunità di lavoro. Non lo farebbe mai per tornare al medioevo. Come non lo farei io? Il quarto messaggio è lunghissimo ed è uno dei miei preferiti perché proviene dalla classica persona affetta da un mix di romanticismo cronico, complottismo e spiritualità. Uso infatti termini come condivisione, vibrazioni positive, energia, risonanza, comunità. Beh, innanzitutto ringrazio questa amica perché il suo messaggio è molto divertente anche se lontano anni luce dalle mie visioni e dalle visioni del progetto Borgo Futuro. Come ho spiegato negli altri video sul canale YouTube Rurale Digitale, il progetto Borgo Futuro non ha come scopo la creazione di qualcosa di simile a una comunità hippie degli anni 70 del secolo scorso. Per me il termine condivisione può essere associato solo a file o contenuti online. Di energie ne conosco diverse tra le quali meccanica, chimica, elettromagnetica, termica, ma niente di quello a cui fa riferimento l'amica del messaggio. Come vibrazioni conosco le oscillazioni intorno a un punto di riferimento. Per farla breve, il progetto Borgo Futuro ha lo scopo di creare delle comunità per far rivivere luoghi abbandonati con obiettivi molto pragmatici e visioni imprenditoriali. Comunità intese come gruppi di persone uniti da rapporti sociali e vincoli organizzativi, non comunità basate sulla comunione dei beni e sulla collettività delle decisioni. Quindi a Borgo Futuro può abitare chiunque, magari anche un gonghista, un bilanciatore di chakra o un ricercatore di energie organiche. Però cose simili non costituiscono basi sulle quali vengono costituite le comunità Borgo Futuro. Il quinto e ultimo messaggio è semplice e chiaro e dimostra che chi lo ha scritto non ha capito niente, probabilmente perché non ha guardato i vari video descrittivi di Borgo Futuro. Chiede infatti dove siamo e come si fa a partecipare all'ecovillaggio futuro. Caro amico, Borgo Futuro non ha niente a che vedere con i classici ecovillaggi italiani. Ho ampiamente raccontato le mie esperienze dirette in queste strutture, ti metto il link al video nella descrizione. Quindi non avrei mai potuto partecipare ad un progetto che ha come obiettivo la creazione di un classico ecovillaggio. Ho ricevuto delle proposte in tal senso, ma ovviamente ne sono rimasto alla larga. Piuttosto, se vogliamo parlare di ecovillaggi, possiamo fare riferimento alle strutture storiche nate alla fine degli anni 70 negli Stati Uniti. Strutture che si sono rivelate totalmente fallimentari nella loro concezione originaria e quindi sono state trasformate in ecoresidence all'avanguardia, dotati di tutti i servizi, che sono diventati anche sede di aziende tecnologiche. Quindi, se stai cercando una comunità come quelle italiane, tipiche degli ecovillaggi, dove magari poter essere ospitati gratuitamente in cambio di lavoro, mi spiace deluderti, ma Borgo Futuro non è questa roba. Ci sono però opportunità interessanti perché decide di lavorare nei borghi che verranno fatti rinascere con questo progetto. Ti consiglio di guardare lo specifico video, metto il link nella descrizione. Se adesso ti è chiaro di cosa stiamo parlando, aggiungo che il progetto Borgo Futuro prevede la realizzazione di un modello replicabile in tutte le zone interne italiane. Per conoscere tutti i dettagli sui borghi che faranno parte del progetto, ti consiglio di seguire il nostro canale YouTube Rurale Digital. Tocca questo logo per visitarlo e iscriviti per non perdere i prossimi video. Prima però non dimenticare un like e la condivisione di questo video per far conoscere a tutti il progetto. Per contattarci va sul sito ruraledigitale.it